Dopo la prolungata chiusura in tempo di pandemia e il ripristino del punto nascite da inizio 2023, riprendono vigore pure i numeri della natalità di ostetricia e ginecologia dell'ospedale San Salvatore di Pesaro. I dati attuali registrano infatti un aumento di oltre il 6% del numero dei parti rispetto all'anno precedente. Nonostante il trend nazionale e regionale di natalità in riduzione, a Pesaro si sta dunque assistendo ad un proficuo processo di ripartenza per il riparto diretto dal professor Claudio Cicoli che sottolinea come negli ultimi mesi si siano ricevuti innesti di unità medica e di supporto che prima mancavano. Innesti fondamentali per permettere una nuova organizzazione che a breve consentirà la presa in carico della donna in gravidanza garantendo a tutte le tre ecografie ostetriche previste nei tre trimestri. Tra i punti di forza del reparto resta quello della possibilità di effettuare il parto in acqua grazie alla vasca realizzata a Pesaro da oltre 20 anni. Un consolidamento del reparto del San Salvatore che presto avrà ulteriori benefici dal nuovo percorso di integrazione istituito fra ospedale e consultori del territorio.